Ecco appena finito di parlare adesso sta arrivando un treno sul binario 2 che è quello che ha dato il ritardo al TSR Vediamo cos'è Ah, merci Con carri bis arca sono Trasporto auto ma senza auto però Sul binario 1 logicamente non vedo ancora niente anche se il segnale è aperto, vedete si dice aperto in gergo per l'avviario quando è verde è aperto e chiuso quando è rosso Questo treno merci è quello che ha causato sicuramente il ritardo al regionale per Milano Adesso aspettiamo, vediamo un po' cosa arriva sul binario dispari, cioè dove sono io, così mi sposto Lo ripete ancora adesso Sentite, io non vedo ancora niente, io sono sempre attento, vedete Lascia una curva Ecco, il treno ha superato due sezioni di blocco, la prima e la seconda, è diventato rosso il primo e il secondo semaforo Due chilometri siamo Ho capito, adesso mi sposto, non c'è ancora niente Adesso spengo il telefono comunque e aspetto Grazie di visione signori e salve a tutti, buona serata